Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, codi a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud, si è verificato un incidente al chilometro 332 e 200. Sempre verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per consentire lavori di pavimentazione, giovedì notte, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Incisa Reggello, in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina a Firenze, iniziati oggi i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Gabriele D'Annunzio e Via Andrea del Sarto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!